Mi chiamo Chris e adesso che dirigo l'azienda di famiglia con mio fratello e Peyton, posso anch'io realizzare giardini per continuare la tradizione. Salute! Hanno un giardino che non usano. In pratica è un cortile per i cani. È un giardino davvero grande e con moltissimo potenziale, ma bisognerà lavorarci. Costruiremo una veranda in legno. Sarà piuttosto grande. Bellissimo! In questa zona metteremo una sorta di tiki bar e sopra il pergolato. E qui una zona recintata dove i cani potranno correre liberi. Vieni indietro! È stato un ottimo primo giorno. Abbiamo demolito tutto. I montanti per le aiuole sono pronti. Abbiamo sistemato il cemento qua e là. Ma c'è ancora tanto da fare. Non abbiamo ancora iniziato la veranda. Domani arriveranno le piante e il giardino inizierà a prendere forma. Gli regaleranno un po' di colore. Penso che vada bene qui. Peyton, vieni! È passato dall'essere un patio in cemento, brutto e grigio, pieno di erbaccia e terra, a un'area verde e ospitale per i cani. E adesso è perfetta per divertirsi. Ha un'enorme veranda e un bar. Io pagherei per avere un bar in giardino. Prima il camino non c'era proprio. La jacuzzi? Chi non la vorrebbe dietro casa?